ancora 269 e il particolarissimo molto interessante bello era la nostra copertina questo divano più puff più tavolino di sirbiata è stato composto è stato fatto negli anni 80 poi è dato fuori produzione perché ha un prezzo molto alto adesso viene messo in gara 3000 euro confermati al banco il banco ha già 3000 euro mi confermi 32 veronica cioè rilancio successivo 3000 euro per il banco aspetto 32 dal telefono altrimenti giudico il banco a 3000 mi confermi 32 32 32 al telefono per il 34 per me per il web 34 aspetto 36 dal telefono 36 confermati al telefono 6000 web aspetto 65 65 confermati 65 telefono per il telefono 65 7.000 web per il web 7.000 aspetto 75 dal telefono 75 confermati al telefono 75 confermati al telefono 75 telefono aspetto 8.000 altrimenti 8.000 arrivati sul web 8.000 web aspetto 85 85 confermati al telefono 85 confermati al telefono 85 per il telefono telefono 85 per il telefono 85 85 per la prima 85 per la seconda 12 12 12 85 al telefono 85ijah